Signor Data, mandi in audio la frequenza della flotta stellare 1486. Sì, signore. Frequenza flotta stellare 1486. Ammiraglia in vivo, non c'è intervenire nel settore ASIC. Frequenza flotta stellare 1486. La posizione mobile 1. Interferite con il nostro collegamento con la flotta stellare. E' la madre di nostro signore. I giornali del centro-sinistra più radicali esultano, basta vedere come esulta Repubblica e i titoli di Repubblica, sempre più giornali di Belzeboul in questi giorni. Satana è dappertutto, anche nelle università, non mi meraviglio che ci siano dei professori cornuti con tanto di tridenti. Guardate che la storiella che l'uomo è venuto pian piano dalla scimmia, è una storiella a cui crede soltanto Repubblica e il Corriere, basta. Adesso basta. Si tratta di salvare il destino dell'umanità. Puntate tutte le vostre armi sulle seguenti coordinate. Fuoco al mio comando. Sì, signore. Fuoco. 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 La giustizia allora c'è Cardinale e gran maiale Forza brucia pure te Capitano è stata distrutta La città del Vaticano Finalmente crollerà La città del Vaticano